Un saluto dunque, un grazie a Fra Italo per questa scheda, ancora una volta piena di dettagli e di umanità, caro Toni. Nel frattempo, a proposito di umanità e di arte, di voglia di conoscerla e farla conoscere meglio, sono arrivati i nostri ospiti. Bene arrivati. Buongiorno. Grazie, siamo felici di essere con voi. Associazione Progetti Futuri, dunque con Nunzio Favia e poi abbiamo un fotografo ormai di foto artistiche, giusto Pietro Damiano? Assolutamente sì. Entrambi arrivano da Manfredonia. Quando è stata la prima volta che avete pensato al vostro lavoro e alla vostra arte declinato proprio per le donne? È uguale, è indifferente. Allora, caso vuole che in realtà io e Pietro già ci conoscevamo da anni, poi motivi vari, la vita divide le strade, ma le fa anche rincontrare tante volte. È stato che ci siamo incontrati in un bar, dove praticamente si parlava, sapevo già della formazione artistica di Pietro, ma non era mai nata questa collaborazione. Nel parlare, essendo come associazione Progetti Futuri Reduci già da una sfilata contro la violenza di genere, volevamo proseguire appunto questo percorso dove mantenere come protagonisti le donne, ovviamente trattando il delicato argomento ma sotto un altro aspetto perché abbiamo valutato dopo quell'esperienza e altre esperienze in questo purtroppo argomento che non è bello, sarebbe stato meglio non trattarlo, ma è una realtà che esiste, ahimè, sotto un'altra forma, un altro tipo di violenza che le donne in questo caso subiscono, che è quella psicologica, dove appunto viene data dai media, dai social network, dai cartelloni pubblicitari, ovunque, dove una donna deve essere perfetta, quella perfezione che poi in realtà non esiste perché anche le stesse donne dei cartelloni pubblicitari o altro non sono neanche così nella realtà perché c'è una post-produzione che ovviamente Pietro magari da tecnico ci potrà dire, perciò questa portare all'esesperazione una donna nella ricerca di quella perfezione impossibile da raggiungere causa problemi, depressione, anoressia e tanto altro. Detto questo, con Pietro utilizzando il suo estro artistico volevamo creare appunto questo, è nata l'idea di fare la mostra Nuda. Il progetto si chiama Nuda, diciamolo chiaramente perché altrimenti sembra che lo vogliamo mascherare come se ci fosse qualcosa di non lecito, invece è tutto assolutamente artistico proprio perché si parla di nudità come essenzialità. Nuda perché è libera, perché è libera da precongetti, da questa visione che la società ci impone. Durante il mio percorso artistico ho fotografato tanta gente, sia uomini che donne. Amo particolarmente fotografare le donne perché mi piace fotografare il soggetto quando è connesso, è libero da ogni problema, quando abbassa le difese e puoi fotografare la vera personalità. La donna in questo ci arriva prima dell'uomo, non so perché. Quando Nuzio mi ha parlato del progetto Nuda, io ho subito sposato l'idea perché durante il mio percorso ho notato che nonostante tutto c'erano persone molto gradevoli che si facevano una marea di problemi, non su difetti ma su caratteristiche della persona, su particolarità che danno un'anima alla persona. Questa cosa mi ha colpito tanto durante il mio percorso, ma perché c'è una caratteristica tua personale deve diventare un difetto. La società ci ha imposto, ha creato un bisogno nelle persone che in realtà non è un bisogno che non esiste perché sono particolarità che rendono, danno... Beh, più che la società, diciamo pure la macchina commerciale. Ecco sì, forse è più corretto, assolutamente sì. Perché sappiamo che questo accade in tanti ambiti. Sì, sì. Poi purtroppo ci sono... È una vera violenza psicologica. A chi lo dice? Molto sottile però è così. Molto sottile ma la violenza... E nemmeno tanto sottile, gliel'assicuro. La fotografia per te quindi diventa una forma quasi terapeutica per accompagnare l'essere umano a scoprire la sua unicità. Sì, assolutamente sì. È un viaggio fantastico nell'animo. Fotografare non è soltanto ritrarre, ma è enfatizzare la vita totale della persona, far capire che sei speciale. A me piace tantissimo fotografare la persona quando è nel suo pieno potere. Non mi piacciono le immagini drammatiche, non mi piacciono. Infatti nuda, nonostante sia contro la violenza sulle donne, abbiamo voluto rappresentare la donna nel suo potere, nella gioia, nella serenità, nella semplicità. Non abbiamo scelto immagini di impatto, lo potevamo fare. Però il mondo è già pieno di immagini nude, fredde, crude, fredde. Ma abbiamo voluto rappresentare immagini più gioiose. E viceversa, dal punto di vista classico dell'arte, prima ancora che fotografica, pittorica, dove il nudo, anche femminile, è appunto un canone. Tu come ti raffronti? È un'esperienza che sto meditando, diciamo, di fare, assolutamente sì. Ed io credo che l'importante è non cadere nella volgarità. Quando il nudo artistico è bello, ma non deve mai essere volgare. Non ci vedi della violenza contro la donna? Se è fatto bene, se è fatto in un modo artistico, studiato bene, va a enfatizzare la bellezza della donna e l'essenza della donna. Adesso vorrei far vedere ai nostri telespettatori in particolare questo scatto. Così concretizziamo un po' il senso di quello che tu dici e lo mettiamo anche alla prova. Questa è una foto non tanto naturale comunque, è una foto di quelle che adesso tante ragazze fanno da sé anche. Potrebbe essere anche un selfie perché sono molto brave ormai a prendersi, diciamo, nella loro modalità anche più sexy, potremmo dire, o comunque più incisiva rispetto agli altri. Tutto questo come si traduce, come si trasforma nell'occhio appunto di Pietro Damiano? Allora praticamente è un'immagine, noi siamo partiti dal concetto di creare immagini semplici. Lei è proprio così questa ragazza qui, cioè io ho cercato di catturare l'essenza della persona. Lei è così, lei è Antonella e così è molto… però quello che ho fatto io ho cercato di, a differenza di un telefono, di staccare il soggetto dallo sfondo. Sono foto scattate con un'apertura molto ampia, 2.8, è impossibile con un telefono creare un'immagine del genere. Mi è piaciuta questa immagine per via dello sguardo, dello sguardo e del sorriso, trasmette molta serenità questa immagine. Ci hai portato anche qualche foto magari di donne che non siano, ecco, nel loro splendore dell'età o della bellezza? Sì, sì, io ho fotografato un po' tutti, da bambini, anziani, donne, mi piace fotografare tutti. Nuda è nato su questo concetto, però mi piace fotografare un po' tutti. Sì, perché abbiamo detto che l'intenzione è quella di mettere a nudo la parte più genuina di noi. In questo senso l'associazione Progetti Futuri si è creata questa simbiosi molto particolare perché vuole, l'associazione che ha la sua missione già nel suo nome, molto bella, vuole rendere appunto il futuro un posto migliore perché, come leggo nella vostra biografia, ci interessa molto il futuro perché è lì che passeremo la maggior parte della nostra vita. Allora, ci tenevo a precisare, anche Maria Pia per rispondere un attimino, che sia chiaro e ci tengo a precisarlo, scusate il gioco di parole, le sarò ripetute due volte, che l'ideatrice, la curatrice del progetto che non è qui con noi per motivi personali è Sabrina Mangano, una donna fra l'altro. Ovviamente nel progetto va specificato, giustamente avete fatto visionare l'immagine di alcune ragazze più giovani, ma in realtà il progetto prevede donne dai 16 ai 60 anni. Ecco, noi magari scorrendo le vediamo, magari per via della regia non capita. La regia resta colpita dalla bellezza, è una loro deformazione professionale. Immagino siano uomini alla regia. E dicevo, perciò è un misto di età, appunto, che va dalla giovane età a un'età più matura, ecco. Quando noi diciamo questo, rispondo, Tony, rispondo perché questa definizione del nome della nostra associazione, non che mission, perché nel nome è compreso anche appunto la mission dell'associazione, ma te la voglio rappresentare sotto un'altra veste. Rispondendo alla stessa domanda per cui ti sei sicuramente posto tu per poter darci questa definizione, ti voglio dire che progetti futuri perché e cosa fa? Ma ti rispondo visionando l'anima, lo spirito che segue progetti futuri, che te lo riassumo in un'unica risposta, ma permettetevi di dividerla in tre punti. Noi cerchiamo di, anzi non cerchiamo, facciamo, far fare le persone quello che normalmente non fanno, far amare le persone quelle che normalmente non amano e realizzare, dar vita, dar alla luce il proprio progetto. Adesso entriamo un po' nel dettaglio. In pochi anni avete fatto tanto. Tanto, tantissimo, tantissimo. Grazie al lavoro dello staff, ovviamente. Io sono soltanto il rappresentante della punta, ma in realtà c'è tanti ragazzi che ci lavorano dietro dei vari settori. Perché i vari settori, adesso, comunque dicevo per rispondere e entrare nel dettaglio a quello, quando dico che facciamo fare le persone quello che di solito non fanno, intendo dire facciamo ritrovare un po' se stessi, far dedicare del tempo a se stessi. In che modo? Coinvolgendo queste persone, innanzitutto cercando di far uscire loro il proprio potenziale. Non esiste parola più bella, perché per potenziale si intende grandezza, qualcosa di grandioso che una persona può fare. Perciò utilizzando, chiedo scusa per il termine, ma non nel senso cattivo, ma usando il loro potenziale, coinvolgendoli in un team di persone, dando alla persona il proprio spazio, questo fa sì che la persona si senta coinvolta, protagonista di qualcosa, anche se il lavoro è in squadra. Quando intendo dire, secondo punto, amare qualcosa che non si ama, come Maria Pia diceva abbiamo fatto tantissime cose, un esempio rapido che mi viene adesso in mente è quello di mostra di quadri, dove quando coinvolgevamo le persone si diceva, ma no, ma questo è noioso, sai, la mostra di quadri è statica, come cosa, come organizzazione. Quando poi ci si ritrova a organizzare, innanzitutto ti rendi conto che non è statica una mostra di quadri. Cosa più bella? Si ama perché vedi nel quadro qualcosa che non sapevi. E questo te lo fa conoscere quando hai la possibilità ancora di più quando sei a contatto con l'artista. perché la cosa bella è saper leggere non quello che vedi, ma quello che non vedi. E questo è solo quando le vivi in prima persona, le esperienze. Terzo punto, e concludo, scusate se mi sono prolungato. Terzo punto, è quello di realizzare progetti dall'idea di una o due persone, quando la persona viene a toccare con mano un'idea che è nata andando al lavoro, facendo colazione o chissà altro, vedendola realizzata, ma soprattutto con la partecipazione di persone strane, tante volte non c'è cosa più bella. Veramente direi Tony che abbiamo spiegato scena e retroscena. Poi è molto importante, molto prezioso questo tipo di lavoro in una società come quella attuale che è molto individualista, dove ognuno cerca magari di esprimere il suo potenziale in maniera isolata. Per cui complimenti per il vostro progetto e per il vostro lavoro. Ci auguriamo di ritrovarvi anche... Visto che è una mostra itinerante, poi ci darete notizie di dove sarete. Ci auguriamo di ritrovarvi anche in futuro, vi auguriamo di continuare così. Noi adesso diamo la linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.